vedete queste persone stanno partecipando a un concorso perché con sky prima fila se vuoi vincere devi solo divertirti acquista su sky prima fila i tuoi programmi preferiti ogni mese puoi vincere uno dei fantastici premi samsung e in più partecipi all'estrazione finale di un abart 595 competizione sky prima fila più acquisti più ti diverti più vinci grazie